Il territorio deve alzare la voce per ottenere gli urgenti investimenti infrastrutturali necessari. A prendere posizione il sindaco Virginio Brivio, dopo il tavolo territoriale di confronto con il presidente della regione Attilio Fontana. Due le priorità emerse dall'incontro, evidenzia Brivio, la statalizzazione dell'Aleco Bergamo, con il passaggio ad Anas della realizzazione di un'arteria di valenza nazionale che collega non solo due capoluoghi, ma il sistema aeroportuale di Orio e Linate con la Valtellina e la Svizzera. E il revamping della 36 tra Giussano e il Trivio di Fuentes. Non dimenticando anche il trasporto su ferro, aggiunge, che sta angustiando un esercito di pendolari e che, al di là degli orari e dei ritardi, necessita di investimenti e di riorganizzazione. Ho la sensazione, afferma il sindaco, che non in tutte le sedi si colgano le opportunità e la gravità della questione. Non si tratta di rivendicare finanziamenti ricavati con fatica da qualche operazione ragionieristica, bensì di dare corso ai impegni già presi e per lo più già finanziati, con un'accelerazione che superi il pantano delle contrapposizioni e che non continui ad aggiungere ulteriori priorità. Con rammarico, aggiunge il primo cittadino, ricordo che la Statale 36, un'arteria che comincia a mostrare tutti i suoi anni, costò un miliardo di vecchie lire al primo chilometro e 10 miliardi al suo ultimo chilometro, anche perché tra il primo metro di asfalto e il taglio del nastro intercorsero lustri e lustri. Se il tempo è denaro, come si dice, in questo caso l'adagio vale doppio. Non voglio fare appelli, conclude il sindaco, ma credo che le istituzioni locali debbano approfondire i dossier e farsi sentire con insistenza, non picchiando i pugni sul tavolo, ma facendo sentire la propria voce, anche alzandola quando è necessario. Grazie a tutti.